La fertilità può essere aiutata con l'alimentazione? Sicuramente sì, anche se la premessa è questa. L'alimentazione non cura l'infertilità, ma sicuramente è di aiuto nell'aumentare la fertilità. Cosa voglio dire con questo? Che è un'arma a doppio taglio. L'alimentazione sbagliata può aumentare l'infertilità, così l'alimentazione adeguata, anche su stile mediterraneo, in base al problema della donna, può sicuramente migliorare la fertilità. Per cui da un lato o dall'altro, in pratica, l'alimentazione può aumentare o rovinare la fertilità. Sicuramente l'alimentazione per la fertilità deve essere ad alto contenuto di Omega 3, che sono antinfiammatori, non ci deve essere insulino resistenza, e dunque se c'è bisogna diminuire la quota di carboidrati e fare una dieta antinfiammatoria. Sicuramente per quanto riguarda l'alimentazione, il pesce deve essere un pesce azzurro di piccola taglia, perché altrimenti il tonno, il pesce spada e il salmone possono portare con sé alcuni interferenti endocrini.